Il genio di Leonardo ha trovato casa nel Museo Etnografico di Oneta. Dalla metà di luglio, quando è stata inaugurata, è allestita una mostra permanente con i modelli di Leonardo da Vinci. Iniziamo a raccontare da chi sono stati realizzati questi modelli e di che tipo sono. I modelli sono stati realizzati da Gianfranco Zucchi, anche lui scienziato, un appassionato dei disegni di Leonardo. E nel corso della sua passione, che sono durati molti anni, purtroppo Gianfranco Zucchi non c'è più, non è più con noi, ha realizzato una quarantina di modelli leonardeschi legati al Codice Atlantico. Ovviamente ha ricopiato da lì gli elementi fondamentali del Codice Atlantico. Lui ci ha messo ovviamente il suo ingegno perché per realizzare questi modelli molto complessi di Leonardo ci voleva molta pazienza, tanta tecnica e grande passione. Quindi oggi abbiamo in casa un patrimonio notevole, direi grandissimo, un patrimonio che però era già stato, come dire, allestito nel 2015 perché la storia nasce quell'anno. Gianfranco Zucchi si appassiona a un'età, visita il paese, conosce il nostro museo etnografico, che poi è anche etnoscientifico e immagina la possibilità di poter allestire i suoi modelli e così avviene. Ha avuto un successo notevole e ovviamente la mostra è durata il tempo di un paio di mesi, dopodiché verrà smantellata. Gianfranco Zucchi mantiene un rapporto solidale con l'oneta, un rapporto anche affettivo, direi anche di amicizia personale e lascia nelle sue intenzioni il desiderio di portare qui i suoi lavori, la sua passione. Ovviamente i figli accolgono questo desiderio del padre e il 15 di luglio abbiamo allestito la nuova mostra e l'accessione di questi modelli a titolo gratuito al Comune di Oneta e rimarranno come patrimonio al nostro patrimonio culturale, ecco, del nostro Comune, del nostro museo, che direi è un museo molto interessante. In sintesi, diciamo di che tipo di modelli stiamo parlando? Li avete divisi anche in base alle tematiche? Sì, sono tre tipologie di modelli e c'è la parte, diciamo, legata alla guerra, a Leonardo da Vinci, peraltro specifico è passato di qua, da Oneta, nel 1513. Sulla base di questo, è vero, noi abbiamo cercato di dargli, ecco, questa memoria a Leonardo attraverso questi modelli che sono suddivisi in tre parti, sostanzialmente in tre parti fondamentali. nella guerra, e qui vediamo i modelli, appunto, ci sono vari modelli, appunto, destinati all'attività bellica, la parte, diciamo, dell'attività economica, quindi mulino, tutto un sistema anche di tecnologie specifiche che sono stati poi utilizzati nei secoli, perché ovviamente questi, diciamo, i disegni di Leonardo sono stati fondamentali per lo sviluppo tecnologico nostro e poi la parte legata al volo che si trova in una sala attigua e quella è veramente affascinante, si vede anche la complessità di questi disegni e il genio di Leonardo, oltre ovviamente alle capacità geniali di Gianfranco Zucchi, che questo va riconosciuto, l'aspetto del volo è estremamente complicato, anche ricostruire il disegno ci voleva molta passione e molto ingegno. Ci siamo proprio trasferiti nella sala che ospita i modelli dedicati al volo, andiamo proprio nel dettaglio di alcuni di questi modelli, che cosa possiamo dire? Ma possiamo dire che Leonardo ha anticipato di secoli, diciamo la tecnologia, perché il volo umano prende e assume il suo valore tecnologico moderno all'inizio del secolo XX, quindi lo studio di Leonardo ha avuto un riflesso fondamentale poi per il futuro, quindi abbiamo da un lato l'elicottero, poi il volo umano, se inquadriamo poi il lumino che sembra un deltaplano, quindi anche questo è una cosa incredibilmente moderno, e poi ovviamente il volo, il volo è quello azionato dal meccanismo umano, diciamo dalla forza umana, oltre all'utilizzo ovviamente perché conosceva benissimo le dinamiche del vento, della portanza, già conosceva questi elementi sostanziali del volo e lui li ha riprodotti, Leonardo, con una genialità incredibile. Zucchi, Gianfranco Zucchi, è stato capace e noi se inquadriamo poi quel modello specifico vedrete la complessità di questo modello e della, oltre alla capacità, come dire, manuali di Gianfranco Zucchi, la genialità complessiva di questa visione, visione straordinaria che solo Leonardo poteva avere e per fortuna abbiamo avuto questo uomo, è incredibile, ecco, è un valore che gioca, diciamo, alla storia nostra italiana, al rinascimento, anche questa rinascita culturale che produrrà anche tanta genialità. Siamo tornati nella prima sala dove sono tanti i modelli esposti, li vediamo attorno a noi, abbiamo detto modelli statici e dinamici e ne abbiamo uno molto particolare qui. Sì, Leonardo, diciamo, la genialità di Leonardo la si intravede anche nelle cose semplici, sembrano semplici, in realtà sono effettivamente geniali, ad esempio la modifica del moto, noi lo vediamo adesso modernamente, però ecco come funziona, azionando la leva in un modo sale, se io inverto il senso della forza della leva, risale di nuovo, vedi che in qualsiasi modo io giri la ruota, lui sale sempre, quindi è il meccanismo tale come certe, come dire, chiavi, chiavi che hanno quel sistema per cui in qualsiasi movimento tu dai, ottieni sempre la stessa rotazione e questa è una, poi ovviamente ha spaziato su tanti altri elementi, ad esempio il mondo idraulico, ovviamente il sfruttamento dell'acqua e la forza cinetica, là vediamo una sega che poi non la ritroveremo nel Settecento, così sviluppata, ecco, quasi due secoli dopo. Poi nell'attività mineraria, era uno specialista anche nell'attività mineraria, dice, è un elevatore a tazze, quindi anche per le miniere, per l'attività mineraria, lui era uno specialista, ecco, un grandissimo genio, di più non si può dire perché al di là di questo credo che siano state dette tantissimi, tanti discorsi fatti di Leonardo, ma credo che sia un genio irraggiungibile per il tempo che ha vissuto e per quello che ha realizzato nel tempo, anche se vediamo solo nella pittura, ecco, la Gioconda e tante altre opere straordinarie. Credo sia doveroso spendere anche qualche parola sul resto delle sale sul Museo Etnografico Dioneta, inizierei anche dagli immobili che ospitano il museo perché hanno una loro specificità, una loro storicità. Certo, allora sono due fabbricati, sono stati acquistati, primo questo che consideriamo il piano più nobile nel 2003, nel 2006 un fabbricato qui a fianco che abbiamo unito e sono fabbricati medievali, risalgono all'epoca 1300-1400. Questo fabbricato poi ha subito delle trasformazioni attorno alla fine del 600, quindi l'aspetto esterno direi che è estremamente interessante, quando abbiamo acquistato i due fabbricati sostanzialmente uno entrando qui negli ambienti vedeva il cielo, quindi immaginiamo quanto lavoro è stato fatto, venne inaugurato nel 2009, nell'ultimo giorno praticamente del mio mandato, nel mio primo periodo di mandato e poi è stato lentamente allestito poco alla volta grazie ovviamente all'ascito al lavoro di Epis Franco che la gran parte di questi materiali che si trovano qua dentro è il frutto della sua raccolta. Di Franco lo vedo ogni giorno e gli dico sempre vieni e rimani pure qui a trascorrere la tua giornata che praticamente ti appartiene. E poi ovviamente il fabbricato ospita 15 sali espositive legate sostanzialmente al nostro attore milenare, quindi vediamo il periodo della tessitura, la lavorazione del bosco, l'attività mineraria e altri oggetti interessanti che si legano un po' al nostro passato che ha determinato la vita sociale ed economica della nostra comunità per diciamo 2.000 anni, ecco, questo perché noi come fondazione di comune, di paese, di paese ecco come comunità risale all'incirca 2.000 anni fa, noi abbiamo testimonianze archeologiche che testimoniano questo periodo. Quindi ai visitatori se vogliono venire il mercoledì è aperto tutto il giorno, quasi tutto il giorno e il venerdì ha chiamata, quindi se si fanno sentire noi felici di accompagnarli e di far conoscere quello che è il patrimonio che abbiamo. Il museo si trova in via Villa numero 10 e nel centro del paese di Oneta, quindi possono vedere anche il nostro piccolo paesino come è strutturato e quindi vi invito tutti quanti a venire a trovarci.